Non me lo posso rimanere a lasciare? Vai la mia roba. Puoi la mia. Domani mangeremo ancora sapere ed è un buon segno perché vuol dire che sono ancora vini. e lega i sentimenti di affetto e di dolore delle famiglie decaduti il documentario di Givetti è stato fatto mi sembra nel 2011